Celebriamo oggi la festa di San Giacomo il Maggiore, il primo apostolo che ha offerto la sua vita al martirio per testimoniare il nome di nostro Signore Gesù Cristo. Tutti noi come Giacomo abbiamo una madre nella carne, che spera per noi i successi migliori nella vita. Ma la risposta di Gesù alla madre di Giacomo e Giovanni e poi a tutti gli altri apostoli che si erano indignati, mormorando contro di loro, è una parola stupenda per tutti noi. Tra di voi che siete rinati da acqua e da spirito, tra di voi nei quali scorre il mio stesso sangue, tra di voi che siete carne della mia carne, non sia come nel mondo che ha il cielo chiuso e vive soltanto per questa vita terrena, non avendo alcuna speranza per un futuro dopo la morte. Tra di voi non si ambisca ai primi posti, non si cerchi il successo umano, non si cerchi la corruzione del potere, ma in voi e quindi tra di voi appaia la mia vita, appaia all'opera il mio spirito, quello spirito che è planato sulla Chiesa nel giorno di Pentecoste e che riversa in tutti noi attraverso i sacramenti lo stesso amore di Dio. L'amore che ha spinto Cristo ad offrire la sua vita per te e per me e per ogni uomo, lo spirito di amore che ha accompagnato Cristo all'ultimo posto, per prendere te, per prendere me, precipitati all'ultimo posto, il posto più lontano da Dio a causa dei nostri peccati. E la meraviglia è che tutto questo si comincia a sperimentare nella Chiesa, tra i fratelli della stessa comunità cristiana. È nella Chiesa che ciascuno sperimenta che l'altro è Cristo e di essere Cristo per l'altro. È nella Chiesa che lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Cristo, ci mette a servizio gli uni degli altri, a lavare i piedi del fratello, a vivere in una conversione costante, esattamente come è accaduto a San Giacomo, che dal seguire Gesù Cristo nella carne senza capire quasi nulla, è giunto ad offrire la vita per lui. Perché in virtù dello Spirito Santo che Gesù Cristo ha risorto, ha effuso sulla sua Chiesa, la sua sposa, San Giacomo, come te, come me, come ogni figlio della Chiesa rigenerato nel battesimo, possiamo percorrere un cammino di conversione che dura tutta la vita, che ci libera dalla mentalità mondana, dai desideri della carne, e passo dopo passo ci prepara perché nel momento supremo possiamo offrire la nostra vita per amore a Cristo e per amore di ogni uomo. E il martirio dell'ultimo giorno si prepara giorno dopo giorno, nei piccoli martiri che ci attendono nelle giornate che si schiudono davanti a noi, quando l'altro non ti accetta, quando l'altro non ti capisce, quando sei calunniato, quando ti fanno qualche ingiustizia, quando hai una malattia. Ma coraggio, perché come la tradizione racconta di San Giacomo, che lo Spirito Santo aveva spinto sino in Spagna ad evangelizzare, e nelle difficoltà dell'evangelizzazione di quella terra, a un certo punto a Saragozza, su un pilastro è apparsa la Vergine Maria, per consolarlo e per dirgli, coraggio, io sono con te, evangelizza questa terra. In tutte le grandi o piccole persecuzioni di ogni giorno, la Vergine Maria ci appare, ci consola e ci accompagna, perché la Chiesa ci nutre, ci consola, ci ammaestra e ci accompagna nella relazione intima con Cristo, perché anche noi come San Giacomo possiamo offrire la nostra vita per amore a Cristo e come testimonianza che Lui ha vinto la morte e che il cielo esiste.